E' la Croazia a iniziare l'incontro. Pranic. Polic. Modric. L'ho visto un po' insicuro Fabio. Il tiro è stato intercettato. Rimbalza sul giocatore e finisce fuori. Ci aspetta un corner. E invece di sfruttare l'angolo, l'hanno regalato agli avversari. Marchisio. Polucci. Marco Motta. Amaury. C'è il difessore sulla traiettoria. De Rossi. Contrasto da parte di De Rossi. Sfugge all'intervento in scivolata dell'avversario. Molinaro. Si inserisce il difessore e anticipa l'avversario. Dinkojevic. Zerini. Polic. Rakitic. Modric. Pranic. Attenzione. Palla intercettata. Traversione. E il tiro viene bloccato. E la gioca sul portiere. Marchisio. De Rossi. Corre e lotta per tutto il campo. Simone Pepe. L'assistente alza la banderina. Si ripartirà da un calcio di punizione. De Rossi. Perdono palla. Montolino. Occasione sfumata. Palla persa. Zerini. Petric. Può crossare. Traversione in aria. Traversione che si perde senza che nessuno di suoi compagni riesca a raggiungere il pallone. Modric. Ed è gol. È il primo dell'incontro. Grazie. 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 Grazie.